Allora questa settimana abbiamo iniziato in maniera molto intensa, siamo pronti a dimostrare molto nella partita che affronteremo sabato, loro vengono da una vittoria importante e noi siamo sicuramente pronte per dimostrare quello che siamo in grado di fare e sicuramente questa settimana ci stiamo preparando per giocare al meglio questa partita.